Il congresso Mepaie come sempre è un evento di estremo interesse che tratta temi sollecitando riflessioni su questioni che inevitabilmente finiscono per coinvolgere le aziende che nella pubblica amministrazione si trovano largamente coinvolte. È stata l'occasione di presentare lo studio KPMG, uno studio che rappresenta la naturale prosecuzione di uno studio analogo commissionato da Sogenetici nel 2016 che mise in evidenza e questi elementi critici emersi dallo studio Nomisma sono poi stati confermati dallo studio KPMG ha messo in evidenza alcune criticità del nostro sistema, in particolare i criteri di aggiudicazione al prezzo più basso e quindi il fenomeno di allontanamento le aziende dai bandi di gara, dalle procedure di gara. In conclusione abbiamo la necessità di entrare in un dialogo costruttivo con la pubblica amministrazione per tentare di porre rimedio a queste situazioni che inevitabilmente nel lungo periodo potrebbero allontanare sempre di più le aziende creando un serio significativo problema di sostenibilità per il sistema sanitario nella sua parte ovviamente ospedaliera.